Alla 9, Impero Carlo Alessandro, Notar Nicola Vincenzo, Puccio Alessandro e Baldessarro Loris, Girone 9, Postazione 9, Girone 10, Taivi Ivan, Barberini Gabriele, Comiello Enrico e Bertolini Antonio, Girone 11, Proveniti da tutta Italia, 64 campioni pronti a contendersi il titolo nazionale PES League e la qualificazione ai prossimi mondiali, leggende e novità, certezze e sorprese emersi durante la stagione, ognuno con lo stesso sogno e le stesse possibilità di conquistarlo, dall'ultimo al primo della lista dei qualificati, ecco gli eroi di Pesaro 2015. Preannuncio che per ogni concorrente è stato assegnato un nickname del quale non mi assumo la responsabilità perché è stato... Buona paese presente, da Bari, Vincenzo, Notar Nicola. L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Milano, Nicolò Russo. Vai Ezzio, vai! Vai Ezzio! L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo, L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo, di 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 Bari, Vincenzo. L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo, di Bari, Vincenzo. L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo. L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo, di Bari, Vincenzo. L'All Boy di Peschi è sempre pericoloso, da Bari, Vincenzo, di Bari, Vincenzo, di Bari, Vincenzo. Grazie a tutti Grazie a tutti